carissimi buongiorno voglio giungere a voi con questo messaggio video messaggio per salutare tutti voi prima in modo particolare della nostra chiesa parocchiale della comunità pastorale vi voglio salutare mandare il saluto da gesù che si trova in questo santissimo sacramento nel tabernacolo della nostra chiesa che abita in mezzo a noi che abita insieme con noi con il vostro cuore con la vostra mente sempre potete rivolgersi a lui chiedendo il suo aiuto lui vi ama sempre e anche aspetta da voi il vostro amore vi giunga anche il saluto della nostra mamma celeste madonna al perpetuo soccorso appena ho finito la santa messa nella quale ho pregato anche per tutti voi per tutti i bambini ragazzi giovani per tutta la nostra unità pastorale io ho chiesto al signore una speciale benedizione in questo tempo particolare che viviamo per tutte le nostre famiglie e per questo voglio aggiungere a voi con questa santa benedizione per intercessione della beata vergine maria vi benedica dio omnipotente padre e figlio e spirito santo amen buono proseguimento di cammino di cammino di cammino quaresimale buona giornata a tutti voi